Sono trovati in un'astronave vagante nello spazio tre umanoidi in verdi cristallo, e trasportati a Londra per degli studi. Ben presto ci si accorge che sono dei vampiri che succhiano non sangue, ma energia vitale alle loro vittime. Panico e cadaveri ambulanti, le vittime diventano zombie, fino allo sterminio dell'ultima vampira.